ciao a tutti cari amici di calciomercato.com stamattina mi sono svegliato con le solite notifiche che arrivano dal telefonino e c'era la notizia che l'inter su frattesi ma per avere i soldi frattesi deve venderà brozovic in arabia molto probabilmente poi c'era su instagram scorrendo i post c'era un post di enrico mentana che diceva citando perfino la canzone di andrè non lo ricordo memoria ma comunque diceva come inter per favore non vendere brozovic che è stato il migliore in campo anche in croazia spagna finale di nations league e poi nella rassegna stampa trovo anche sulla repubblica la notizia che messi leo messi prende 25 milioni all'anno per fare praticamente una vacanza documentata sui social di cinque giorni oppure due vacanze di tre giorni committiva di 20 persone tutta pagata hotel a 5 stelle e volo aereo e sui social puoi dire commentare quanto è bello fare del turismo in arabia saudita tra l'altro era il motivo se ricorderete di quando il pari san germen aveva convocato un ritiro con un giorno d'allenamento in più e messi non c'era andato dice perché avevo qualcosa di più importante da fare sarà scoperto che va questo da fare vedete queste su repubblica vedete messi con la con la moglie nel deserto e dice in arabia come si come bello andare in vacanza in arabia per 25 milioni i soliti giornalisti non ho l'ha scritto il new york times i giornali italiani mondiali lo stanno riprendendo scoprendo una un contratto pre firmato proprio dall'entourage dello stesso messi quindi ci troviamo in una situazione in cui pertanto per far chiarezza che per tanta chiarezza sono io il primo a non averla c'è un giornalista che è insegna noi tutti che cos'è anche la politica geopolitica internazionale che però scrive brozovic deve restare all'inter perché perché in quel momento fa il tifoso e il tifoso chiede quella cosa lì ma ai giocatori e ancor più a chi guida i club e ancor più a chi guida il mondo evidentemente dei tifosi non interessa fino a un certo punto e quindi brozovic è destinato ad andare in arabia dove però brozovic va a giocare a pallone quello che hanno fatto cristiano ronaldo e benzema e tanti altri perché l'arabia vuole offrirsi come paese di calcio per prendersi la rivincita sul qatar che organizzato gli ultimi mondiali l'arabia appunto a organizzare il mondiale del 2030 con il calcio e poi c'è leo messi e leo messi è il giocatore che ne è andato via dal barcellona al pari san germain campione è il numero uno assoluto ma è andato via dal barcellona perché il barcelone ce la faceva a pagarlo poi è andato al pari san germain dove non ha vinto la champions league e sono state due annate deludenti del pari san germain poi ha vinto il mondiale giocando un ottimo mondiale al mondiale se mi hanno messo lo spolverino di la mantellina del qatar il momento in cui doveva alzare la coppa del mondo quindi la foto più simbolica di tutte più iconica di tutte il qatar è nemico dell'arabia saudita ma con i soldi si aggiusta tutto per cui messi fai post su instagram fare post su instagram per dire che andare in vacanza nel deserto d'arabia è meglio che andare in vacanza miami perché lui non è a miami in vacanza ma è a miami per giocare a calcio a me sembra che ci sia qualcosa di contraddittorio in tutto questo a partire da messi ma per finire anche con tutti gli altri e noi siamo lì ad assistere ad assistere a che cosa al potere dei soldi perché alla fine è a quello che tutto si riduce anche il calcio che è veicolo per portare attraverso i soldi un messaggio politico nel mondo